Ciao a tutti, oggi vi presenteremo dei biscotti tipici di Natale, si chiamano leipkuchen. Come ingredienti abbiamo 150 g di margherina, 250 g di zucchero, 4 uova, poi abbiamo 2 cucchiaini di cannella, un pizzico di chiodi di garofano macinati, poi abbiamo 400 g di zucca, la prendete colorata, bianca, gialla, la mischiate comunque. Poi abbiamo 300 g di granella di mandorle o di nocciole, fa lo stesso, 200 g di uva sultanina, io già l'ho messa nell'acqua per ammorbidirsi. Poi abbiamo 250 g di latte, 500 g di farina doppio zero, 2 bustine di lievito per dolci, 2 cucchiai di cacao amaro, una fialetta per alle mandorle. Questo impasto poi lo metteremo nell'ossi e quelle grandi, solitamente i tedeschi lo fanno in quelle grandi, ma se volete porzioni più piccole potete adoperare anche questi piccolini. Ora procediamo, nello zucchero mettiamo la margarina, tutte le 4 uova. Ed ora incominciamo a mescolare, fino a che diventa una bella schiuma. Ora buttiamo la granella di mandorle, tutta la zucchata. Strizziamo l'uva sultanina, mischiamo con un cucchiaio di legno, la cannella, i cucchiaini, i chiodi di garofano, una punta da coltello e poi aggiungiamo il cacao. Stacciamo. Mescoliamo. Piano piano aggiungiamo la farina e il latte. A piccole dosi e mescoliamo sempre. Settacciamo il lievito per dolci. E la fialetta di mandorle. Mescoliamo per bene e il nostro impasto è bello che è pronto. Ora prendiamo le ostie e mettiamo l'impasto sopra. Li mettiamo distanziati perché poi crescono, magari si allaggono, si uniscono. E quelli piccolini lo stesso. Mettete sempre l'impasto sopra e distanziatele. Ed ora inforniamo a forno caldo a 200 gradi per 20-25 minuti. Abbiamo sciolto del cioccolato fondente e ora li inglassiamo. Subito appena escono dal forno caldi così si asciuga prestissimo. Quello piccolino è lo stesso. Lo inglassiamo. Ed ecco a voi. Sono molto molto friabili. Sono di una buntà unica. Già si è asciugato tutto il cioccolato. Ora per conservarli li possiamo mettere in una natta. Per Natale abbiamo già i biscotti fatti. Nelle prossime puntate vi farò vedere ancora tantissimi biscotti di Natale. Seguitemi e vi stupirò. Ora vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti.